Ci sono delle buone notizie perché anche se magari non al top sono tutti convocati, sono abili e chiaramente la condizione magari per qualcuno non può non essere al 100%, però insomma hanno dimostrato negli ultimi due allenamenti di essere in crescita sia De Zogus che Crescenzi e chiaramente Plizzari lo diamo per assodato che sia tra quelli che stanno meglio e quindi bene, sono tutte buone notizie. L'altra sensazione è una sensazione di grande orgoglio prima di questa partita perché credo che ci sia già una vittoria, ossia questo gruppo ha fatto riavvicinare il pubblico di Pescara che probabilmente è abituato a questi numeri ma che noi finora non avevamo visto e soprattutto un pensiero speciale a chi però finora ci ha accompagnato in tutte le partite e insomma quelli che ci sono sempre stati che hanno sempre dato un apporto. Abbiamo voglia di misurarci e confrontarci contro una che ritengo, anzi ritengo senza una, la squadra più forte delle 60 di Serie C in questo momento. Per quanto esprime, per come lo esprime e soprattutto anche per i numeri che sta portando avanti. Ripeto, a livello di numeri nemmeno noi e il Crotone siamo da meno. Sicuramente dobbiamo ritrovare quell'intensità nella fase di non possesso che ci ha contraddistinto nelle prime giornate di campionato ma anche quella brillantezza, quel coraggio di andare ad attaccare in modo equilibrato gli spazi che gli avversari ti possono concedere o che ci creiamo attraverso il gioco. Per cui è questo che si chiede, si chiede di ritrovare un po' quello che è stato il Pescara di qualche giornata fa pur sapendo che nell'arco di un campionato non è sempre possibile essere al top e quindi ci sono alti e bassi per tutte le squadre. Non mi aspetto una partita bloccata dal punto di vista tattico. Poi può uscire qualora i valori si livellino ma credo che entrambe le squadre siamo a un punto della stagione in cui sì, può essere importante la partita ma non è che hai poche partite e quindi il risultato ti costringe o ti riempie di tensione e ti blocca. Qui c'è la voglia di superare uno e l'altro e quindi c'è questa voglia. Non credo che ci sia voglia di portare a casa un pareggio. Se la partita andrà in un determinato modo allora uno a un certo punto fa dei ragionamenti ma dipende come va la partita. credo che né io né i miei giocatori così come né Vivarini e i suoi giocatori partano con la voglia di dire ci accontentiamo di un punto perché siamo a questo momento della stagione quindi può andare bene anche un pari. Assolutamente no.